Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta speck noci e taleggio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, speck tagliata a listarelle, taleggio tagliato a cubotti, cipolla, olio evo, granella di noci, latte caldo, pepe, sale e pecorino. Andiamo via alla ricetta! Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Mettere nel boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 5 minuti, 120 gradi, velocità 3. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere lo speck ed azionare il bimbi per due minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere il taleggio, il latte ed azionare i bimbi per 40 secondi, anti-orario, velocità 2. Aggiungere un pizzico di sale, il pepe, la granella di noci e una parte del pecorino. E ad azionare il bimbi per 20 secondi, anti-orario, velocità 2. Mettere in una ciotola capiente, aggiungere un po' d'acqua di cottura della pasta e condire la pasta e servire spolverizzando con il pecorino messo da parte. Pasta, speck, noci e taleggio. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!